Oggi i socialisti hanno votato a favore dell'aumento del numero dei consiglieri nelle partecipate, dunque sembrerebbe rientrata la piccola crisi della volta precedente? No, non c'è stata nessuna crisi della volta precedente e pensiamo dall'inizio che la democrazia, quindi nell'allargare il CDA senza ulteriori aggravi di spesa, sia una forma di democrazia più ampia, di partecipazione più ampia dei componenti del CDA. Ci andrà tutta gente qualificata, questo è poco ma sicuro, non c'è nessun aggravi di spesa, quindi siamo favorevoli. Insomma si è discusso in queste settimane di come arrivare anche ad un accordo da questo punto di vista? Si è discusso come arrivare ad un accordo anche su quelle che saranno le indicazioni dei partiti, ma ovviamente saranno indicazioni di gente che dovrà lavorare e dare il massimo per risolvere le sorti delle nostre tre municipalizzate che non sono rose e fiori.